ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani oggi parliamo di un argomento importante lo sport, il sociale, lo facciamo con Fabio Sacara, fratello di Alessio Sacara, campione di arti marziali. Fabio che è qui con me, lo saluto, ben trovato i nostri studi. Ciao, ciao, ben trovati. Fabio racconta un attimo la tua storia perché tu giocavi al calcio io giocavo a pallone, si è rotto il ginocchio, un intervento di routine è diventata invece un calvario, dieci interventi e l'innesto di una protesi. Da quell'episodio i chili di troppo arrivano a 152 chili e poi la depressione la depressione, la mancanza di voglia di rimettersi in gioco invece poi è ritornata fuori grazie a tua moglie, grazie a mia moglie alle bambine, a mio fratello quindi che cosa è accaduto dopo? è accaduto una serie di eventi e mi hanno portato a capire di poter essere di aiuto a chi ha passato dei momenti brutti o a chi sta passando dei momenti brutti come me quindi ho deciso di intraprendere delle camminate in solitaria. Ecco, tu il 19 agosto hai percorso 35 chilometri a piedi da Pomezia a Torpignatara perché? Perché c'era una ragazza che tuttora sta combattendo contro un male brutto e avevo organizzato una piccola camminata da amici e con la birra e lei mi ha scritto mi ha detto io volevo partecipare ma non posso venire perché sto facendo la chemio e io ho fatto una promessa che ho mantenuto ho preso quella birra e l'ho portata a piedi a casa sua. Poi l'8 settembre hai percorso 30 chilometri sempre in notturna questa volta da Pomezia a Torvergata all'ospedale. Sì, per donare il sangue a un ragazzo affetto da lucemia fulminante è stata una camminata impegnativa di notte vi sfido a fare Pomezia a Torvergata da solo, nove ore di cammino l'Avis, il vicepresidente dell'Avis e Francesco con un medico mi aspettavano c'è cappe di routine e ho donato il sangue a Raul E adesso il 30 e 31 dunque sabato e domenica 30 e 31 marzo a Pomezia a partire dalle 10 e 30 cosa farai? Cercherò di aiutare con una raccolta fondi benefica la ricerca sulla fibrosicistica quindi nell'occasione in particolare tenterò un record mondiale sarò il primo al mondo a pedalare su una bike erg che è differente dalla spinning bike perché non ha volano, non ha una pedalata assistita quindi tenterò 24 ore non stop senza mai fermarmi di percorrere assistito da professionisti di aiutare questa associazione sulla ricerca della fibrosicistica che ho scoperto in questi mesi di preparazione ha dei numeri impressionanti in piazza Pomezia e tutti potranno vederti anche alle ore di notte assolutamente sì ma potranno partecipare attivamente perché ho fatto mettere dalla Concept Italia 30 bike erg a disposizione per i cittadini per chi vuole intervenire e provare a pedalare insieme a me quindi tramite una piccola donazione si può partecipare attivamente a questa raccolta fondi e per la fibrosicistica la ricerca grazie a Fabio Sagara grazie a voi grazie mille un grazie a voi tutti da Marco Fabriani